C'è apprensione a Bazzano dopo l'incendio. Si presume di origine dolosa divampato stanotte nel capannone sere dell'SM. L'azienda comunale che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un incendio di vaste dimensioni, che ha coinvolto i mezzi all'interno della struttura. 26 tra camion, furgone e api. Si sono salvati solo i mezzi parcheggiati all'esterno e gli uffici amministrativi, grazie all'intervento tempestivo dopo le due dei vigili del fuoco dell'Aquila e Teramo. L'incendio si è sviluppato molto rapidamente, ciò fa pensare all'origine dolosa. Sono stati trovati diversi inneschi, due in particolare. L'area ovviamente è stata messa sotto sequestro dalla Procura della Repubblica e c'è un'indagine in corso. Ovviamente c'è lo stato di emergenza, essendo un'azienda che svolge il servizio pubblico. Il Comune intanto emette un'ordinanza cautelativa per invitare la cittadinanza a residenza in zona est a mantenere le finestre chiusi, a non consumare prodotti provenienti da colture ricadenti in quell'area. E agli anziani li invitano a uscire di casa, un disastro in piena regola anche dal punto di vista ambientale. Tutto ciò ovviamente in attesa delle prime analisi ufficiali. Stamattina si è riunita all'unità di crisi comunale, è stato aperto il COC. È evidente che i danni sono ingenti e dopo un censimento puntuale si chiederà a Regione e Ministero dell'Ambiente l'eventuale disponibilità di fondi per ricostruire la flotta di mezzi distrutti dalle fiamme e di somme straordinarie per sostenere la gestione delle frazioni merceologiche e dei rifiuti differenziati in ordine al loro smaltimento. Ma l'assessore all'ambiente assicura che la raccolta dei rifiuti continuerà regolarmente. Sicuramente è un fatto che ci mette in grave difficoltà, una perdita enorme, danni importanti, ingenti per ASM. Comunque la raccolta dei rifiuti va avanti, siamo in grado di garantire alla città un adeguato servizio nonostante i mezzi che sono andati persi nell'incendio. Potrà esserci qualche piccolo disagio, ce ne scusiamo con la popolazione, ma comunque è un servizio che riusciremo a garantire nei prossimi giorni in modo efficiente. Sull'origine c'è un'inchiesta ovviamente, non potete sbottonarvi, ma c'è già un'idea di massimo. Sì, è presto ovviamente per dire qualunque cosa. I Vigili del Fuoco hanno rilevato che l'incendio è partito in due punti distinti, quindi questo fa pensare, fa aumentare i sospetti, però ci sono in corso le indagini ovviamente e aspettiamo prima di dare sentenze sostanzialmente.